Tra i motivi che hanno indotto il Comune dell'Aquila ad avviare l'ITER per rescindere la concessione con la società Mobilità e Parcheggi che da più di 20 anni gestisce il megaparcheggio Lorenzo Natali di Colle Maggio e gli oltre mille parcheggi a pagamento dislocati tra centro storico e periferia, ci sarebbero 1.700.000 euro di debiti accumulati negli anni, tributi locali non pagati e 354.000 euro di canoni concessori e patrimoniali non versati. Non solo, anche una cattiva gestione dei parcheggi, il degrado, il sottutilizzo della struttura, sebbene agibile, la mancata manutenzione e gli scarsi controlli. Carte alla mano, il Comune ha deciso così di eliminare alla radice una situazione caotica e non chiara che si trascina da tempo. A rispondere alla decisione definita unilaterale e impulsiva dell'assessora ai trasporti e alla viabilità Carla Mannetti è il direttore regionale della Confcommercio Celso Cioni. Il danno erariale perché? Perché parte degli incassi della gestione da parte della società MP vengono retrocessi al Comune, quindi la mancanza di ripristino di queste strisce blu potrebbe configurare anche questo danno erariale. Noi quindi, così come penso i sindacati, abbiamo richiesto un incontro perché riteniamo che la strada del confronto sia la cosa migliore anche per evitare eventuali, probabili conseguenze dal punto di vista legale. Ma il Comune non tornerà sui suoi passi ed è già pronto ad avviare tutte le procedure per affidare la gestione dell'infrastruttura Lama S.p.a., l'azienda per la mobilità aquilana, al netto dei ricorsi già annunciati dalla società Mobilità e Parcheggi. Noi abbiamo avuto, dopo che è stata adottata questa delibera nel 2017, un confronto per più di un anno con la società per addivenire ad una soluzione e riattivare la convenzione che era stata sospesa. Da parte della società c'è stata una chiusura totale, pretese inaccettabili da parte dell'amministrazione e noi dobbiamo pensare all'interesse della città, dei cittadini, restituire il megaparcheggio alla città, aprire il tunnel, aggiustare il tabirulan e su tutto questo non si è trovata la quadra. Quindi noi andiamo avanti, risolviamo il rapporto e porremo in essere tutti gli atti necessari affinché sia ripristinata la trasparenza e la legalità. A chi affiderete il servizio? Sarà avviata subito una procedura di evidenza pubblica e nelle more la gestione sarà fatta da AMA SPA.